Allora, prima era confusione, dubbio, incertezza. Con Scientology ho cambiato comunque la mia attitudine verso la vita. La mia vita è diventata più semplice, non difficile, non complessa, non finta. Ma è diventata vera, è diventata serena e mi diverto. Mi diverto a vivere la mia vita. Mi chiamo Serena, faccio la commerciante e sono una sceltologa.